Nulla fu più come prima, tre province martoriate, 3.000 vittime, centinaia di migliaia di sfollati, il paese che cambiava nel bene e nel male. Alla vigilia del 23 novembre si moltiplicano gli eventi commemorativi, molti per il Covid si svolgeranno online, il prefetto incontrerà diversi sindaci tramite il web, i vigili del fuoco presenteranno un video con immagini inedite, i carabinieri saranno invece a Sant'Angelo dei Lombardi, Rai 3 alle 23.15 di lunedì presenterà il docufilm sul terremoto, l'INGV trasmetterà alle 19.34 un reportage via internet sul quarantennale, Prima TV e Tele Nostra dedicheranno l'intero palinzesto di lunedì al ricordo, ma già domenica sera a partire dalle 21 sul canale 90 in onda 40, quel pallone sulle macerie con a seguire alle 21.50 le interviste al presidente Angelo D'Agostino e al direttore sportivo Salvatore Di Somma. Negli archivi della Biblioteca Statale di Montevergine in tema di ricordi, ecco le foto donate dal professor Giovanni Durso, la luna piena del 23 novembre prima della catastrofe a Sant'Angelo dei Lombardi e poi la distruzione del Goleto. Nominata sindaco in una tenda per la morte del primo cittadino, Rosanna Repole, oggi consigliere provinciale, e il primo cittadino di Sant'Angelo, Marantino, ricordano ai nostri microfoni. Mi viene in mente quei momenti terribili, tanti giovani, soprattutto oltre le tante persone che sono morte, una comunità che è stata privata dalle sue forze migliori e che ha tentato e tenta con forza di rialzarsi, combattendo con quei problemi che tutte le zone interne stanno affrontando. Io credo che a 40 anni oggi bisogna progettare per i prossimi 40 anni rendendo partecipi giovani. È il modo migliore per ricordare chi perse la vita allora. Ben 432 le vittime di quel tragico evento. Noi cercheremo appunto di ricordare, di dare onore a quelle vittime, anche attraverso la realizzazione di un parco della memoria nel quale saranno appunto piantati 432 alberi nel ricordo di quelle vittime.